L'inchiesta e il Movimento 5 Stelle smaschera le criticità nella gestione e nella sicurezza degli impianti sportivi di Teramo. Tragedia di Canzano, celebrato oggi il funerale del piccolo Gioele. L'autopsia, fatali due impatti nella caduta. Il dimensionamento, il nuovo piano per le scuole preoccupa i genitori, l'assessore Romanelli dice timori senza senso. Raccordo Autostrada 24 escono illesi dalle auto distrutte, doppio incidente tra Teramo e Valvomano. Giulianova Trenitalia dice sì al sindaco per la fermata della Freccia Bianca quest'estate. Sport Teramo Calcio di Paolo Antonio è sicuro, i prossimi due mesi ci diranno dove possiamo arrivare. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia di Canzano, la morte del piccolo Gioele. Oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio di oggi, tanta gente ha consegnato il suo ultimo saluto al piccolo Gioele nella chiesetta di Ripattoni e di Bellante. La famiglia ha deciso di svolgere il funerale in forma privata, tanto ovviamente il dolore dei parenti e dei tantissimi che hanno accompagnato il piccolo Gioele nell'ultimo viaggio. Intanto sono compatibili con una caduta dall'alto le numerose fratture al cranio riportate dal piccolo Gioele Capitanio, il bimbo di due anni morto ieri nel cortile dell'abitazione di famiglia a Canzano dopo una caduta dal trattore condotto dal nonno paterno. E quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul piccolo eseguita oggi nell'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo dall'anatomo patologo Gina Quaglione che ha ricevuto l'incarico dal PM titolare dell'inchiesta, Luca Sciarretta. L'esame necroscopico avrebbe anche accertato che il piccolo avrebbe battuto almeno due volte la testa nella caduta, una prima volta contro la scaletta di salita alla cabina del trattore e la seconda sul terreno. I traumini hanno provocato il decesso sul colpo ed inutili sono state le azioni di rianimazione prolungatesi per circa un'ora e portate dal personale del 118 a corso sul posto. È stata dunque esclusa l'ipotesi emersa nel corso della ricostruzione dell'incidente che il piccolo fosse stato investito e travolto dallo stesso mezzo agricolo. Non ci sono infatti segni di arrotamento sul corpicino del bimbo. Secondo quanto riferito nella sua testimonianza dal nonno Giuliano, il piccolo sarebbe scivolato dalle sue braccia mentre era alla guida del mezzo in manovra e la casuale apertura dello sportello della cabina ha avuto effetto di concausa della tragedia, non impedendo la caduta del bambino a terra. E con cinque patteggiamenti per complessivi otto anni, otto mesi e quattro rinvii a giudizio che questa mattina il GUP Roberto Veneziano ha messo il primo punto fermo sull'inchiesta del PM Greta Aloisi su un vasto giro di spaccio tra ascisce e cocaina, tra Teramo e la costa Teramana. Spaccio che vedeva coinvolti italiani, rom, albanesi o marocchino fermati a più riprese dalla squadra mobile nel corso del 2015 in differenti operazioni. A scegliere il rito alternativo Marco Altin che ha patteggiato un anno e dieci mesi, Gino Violante che ha patteggiato sempre un anno e dieci mesi, Fiorello Di Rocco che ha patteggiato un anno e due mesi con pena sospesa, Vincenzo Chiarelli che ha patteggiato due anni e sei mesi, Daniela Spinelli che ha patteggiato un anno e quattro mesi, pena sospesa. Ad essere rinviati a giudizio Fabio Graziani, Abelali Afid, Sara Guarnieri e Aria Kiptyu. Il Movimento 5 Stelle di Teramo smaschera le criticità nella gestione e nella sicurezza degli impianti sportivi Teramani. Quattro strutture sono senza certificato di agibilità, tre senza quello antisismico. Archiviata l'inchiesta della Procura che ha evidenziato irregolarità amministrative ma non reati penali. Vediamo. Sono quattro gli impianti sportivi a Teramo che non hanno il certificato di agibilità, il Palas Capriano, la palestra San Gabriele, la palestra Molinari e il Palacqua Viva. Gli ultimi tre sono privi anche del certificato di idoneità statica, ovvero il certificato antisismico. Sono i risultati dell'indagine della Procura della Repubblica di Teramo alla quale un anno fa il Movimento 5 Stelle aveva presentato un esposto sugli impianti sportivi comunali. Queste sono cose gravi che noi sottolineiamo e pensiamo che un'amministrazione che tenga alla salute e alla sicurezza dei propri cittadini se ne debba rendere conto e addirittura non possa dare poi in esternalizzazione questi impianti senza una previa verifica e senza poi addossare la responsabilità a chi le andrà a gestire. Inoltre la nostra indagine ha anche permesso di evidenziare il fatto che per quanto riguarda il calcolo di quanto spetta al Comune di Teramo per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto la guida dell'assessore Campana in quell'epoca questi importi sono stati calcolati in maniera assolutamente irregolare in quanto i registri per sottoscrivere la presenza da parte delle società sportive, questi registri non sono mai stati tenuti e il calcolo è stato fatto su fogli bianchi non sottoscritti né dalle società sportive e né dai dipendenti comunali. Ad oggi la situazione è stata regolarizzata per quel che ne sapete voi? Ad oggi ovviamente la situazione è stata esternalizzata alla linea informatica che provvede ad incassare tutti gli introiti, siamo in una situazione di proroga alla linea informatica di dubbia legittimità e siamo in una situazione in quanto dopo quattro mesi dalla procedura di esternalizzazione nessuna società ha ancora firmato la convenzione. Questo perché secondo lei? Questo perché noi non sappiamo ancora se l'amministrazione stia prendendo tempo per evitare il fatto che le società sportive debbano volturare le utenze a proprio nome. E intanto per quanto riguarda gli impianti sportivi voi porterete nel prossimo Consiglio Comunale una proposta? Esatto, una proposta per far sì che il Comune intercetti dei fondi importanti per la riqualificazione e la messa a norma di questi impianti sportivi, bando nazionale al quale noi vogliamo che il Comune di Teramo partecipi, ovviamente impegnandosi sulla vita reale dei cittadini e non sulla mera spartizione di poltrone conseguente al rimpasto annunciato dal Sindaco. Quando ero assessore era completamente regolare il rapporto con le società sportive, non ci sono stati favoritismi. Se ci fosse stato qualcosa di irregolare, come dice Berardini, la procura che ha indagato l'avrebbe rilevato e la replica dell'ex assessore del Comune di Teramo Guido Campana, l'attuale Consigliere Comunale, alle dichiarazioni del Consigliere Penta Stellato. Sentiamo. Impianti sportivi Teramani senza agibilità e poi assenza di un registro e quindi qualche irregolarità in quello che dovevano pagare le società sportive e forse non hanno pagato. Cosa replica Campana? Innanzitutto per l'agibilità credo che l'ufficio tecnico abbia messo a posto tutte le agibilità degli impianti, qualcuno di loro credo che potrà rispondere. Poi per il Consigliere Berardini, premessa. Procura, se l'interagione della procura l'ha fatta e c'era una cosa che non andava di irregolare, credo che qualcosa sarebbe dovuto arrivare sia a me che agli uffici. E qui ciò non è successo. Spieghiamo bene. Noi come impiantistica sportiva, come società sportiva, noi allora dicevamo di riempire un modulo che è sul sito, un modulo all'inizio dell'anno per verificare gli orari degli allenamenti e le partite. Quindi ogni società riempiva un modulo che il comune ha e aveva. Queste società sportive riempivano questo modulo per gli orari dove noi inizio dell'anno facevamo una riunione per decidere appunto le società che si allenavano e qual è il calendario definitivo per ogni impianto. Siccome poi l'ultimo periodo purtroppo non c'era la custodia per motivi economici che non avevamo i soldi, avevamo appunto pensato di fare autogestire gli impianti delle società sportive. Sembra quel calendario fatto all'inizio dell'anno. In più come ufficio abbiamo fatto un registro bianco, che è al cittadino Berialdini, dove appunto facevamo firmare l'ingresso alla società in quell'impianto giusto per avere un di più che non serviva a niente, nemmeno a livello di contabilità anche perché l'impianto era talmente pieno e occupato che chi entrava doveva subito uscire perché subito dopo c'era un'altra scuola che premeva appunto per poter allenarsi. Quindi non potevano fare minuti o ore in più. In più le ore che il comune quantificava, le ore che riempievano in modulo all'inizio dell'anno. In più, per quanto riguarda questa autocertificazione che lui cita per fatto della riduzione per i bambini, lì c'è proprio scritto che la società doveva presentare un documento dove citava le ore che facevano allenamenti i bambini che non usavano né doccia né spogliatoi. Quindi tutte le società hanno pagato quello che dovevano pagare e non ci sono stati favoritismi? Assolutamente no, tutto è regolare, ma ripeto, se c'è qualcosa che non andava a livello penale credo che la procura avrebbe già fatto qualche cosa. Una perturbazione proveniente dal centro Europa porterà nelle prossime ore un'endata di maltempo sul nostro paese. Sulla base delle previsioni al momento disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi, da questa sera, venti forti su Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna, Marche, Umbra, Lazio, Abruzzo e Morise. Dalle prime ore di domani sono previste nevicate sopra i 500-700 metri sull'Abruzzo con apporti al suolo da deboli o moderati. Sul dimensionamento scolastico a Teramo si è creato un allarmismo ingiustificato, lo sostiene l'assessore alla pubblica istruzione Piero Romanelli che ribadisce, per i bambini delle scuole coinvolte non cambierà nulla, anche gli insegnanti e i collaboratori scolastici resteranno al loro posto. Sentiamo. L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Teramo, Piero Romanelli, denuncia una cattiva informazione che starebbe dietro il dimensionamento scolastico. Sì, girano leggende metropolitane sul dimensionamento appena approvato sulle scuole che interessano il nostro comune che sono quelle di Fornacicona, Villaripe, Frondarola e la Michelesi. Io voglio rassicurare le famiglie e anche gli insegnanti che non cambierà assolutamente nulla. Gli insegnanti rimarranno nelle scuole che sono state dimensionate. Cambia solamente la presidenza. Mi riferisco a quelle di Villavomano dove ci sarà di nuovo la presidenza e dove confluiranno anche le scuole di Fornacicona, Frondarola e Villaripa. Per bilanciare questi spostamenti si è presa questa decisione di spostare la Michelesi sotto il circolo, l'istituto comprensivo Zippillino e Lucidi. Gli insegnanti rimarranno là, il personale ATA rimarrà lì. È solo un problema di segreterie, un allarmismo che proprio non serve a nulla. Capitolo esternalizzazione, a che punto siete? Sì, ma credo che anche questo sia un problema di informazione. Innanzitutto voglio dire che l'esternalizzazione di per sé non cambia assolutamente nulla perché cambia solo, è vero, la gestione dei nidi ma sarà sempre sotto strettissimo controllo da parte nostra. È un'ipotesi di lavoro che noi stiamo studiando e portando avanti, adesso abbiamo avuto un confronto nella maggioranza, ma questo perché? Perché noi vogliamo dare un futuro stabile ai nidi, nessuno di noi vuole abolire o chiudere i nidi, quindi non è vero nemmeno quello che si dice che è un cedere tutta la gestione della prima infanzia ai privati, ma di che cosa stiamo parlando? Non è questo, assolutamente. Ci sono varie ipotesi, un'ipotesi era quella di rinviare tutto di un anno in attesa che ci sarà questa famosa applicazione della legge 107, che è quella la 06, che lo Stato si è impegnato adesso di pubblicare i decreti attuativi. Restiamo a Teramo, il contratto di quartiere della Cona era bloccato da anni, con lo che del Ministero si sblocca l'Itera ma i tempi restano incerti, lo chiarisce l'assessore all'urbanistica del Comune di Teramo Mario Cozzi che aggiunge, adesso finalmente possiamo sederci a tavolino con gli attori coinvolti per riprendere un discorso fermo dalla giunta di centro-sinistra guidata da Sperandio. L'intervista. Dopo l'ok del Ministero al contratto di quartiere della Cona, il Comitato di quartiere e l'opposizione in Consiglio Comunale chiedono al Comune di partire al più presto con l'Iter per la realizzazione del progetto. Innanzitutto mi preme sottolineare che per quanto riguarda il Comitato di quartiere i rapporti sono stati assolutamente produttivi e di collaborazione, per quanto riguarda l'opposizione non ho trovato questa collaborazione e mi sembra anche abbastanza strumentale che adesso che l'amministrazione ha risolto il problema dal 99, nel 99 ricordo che amministravano quando nasce il contratto di quartiere Cona, amministrava il centro-sinistra e se questo progetto dal 99 ad oggi ha trovato le difficoltà sarà stata anche responsabilità delle amministrazioni che si sono succedute sicuramente e quindi anche di quella di centro-sinistra. Chiusa la parentesi di chi è il merito di quello che non interessa a nessuno, immagino che interessi la risoluzione. Siamo arrivati ad una sintesi importante, cioè prima ancora del nulla osta del Ministero quello che conta di più è una sottoscrizione che abbiamo fatto in regione comune, regione e parte nel privato, nella quale si rimodula e si distinguono in maniera chiara quelle che sono le competenze del privato che terminerà il villaggio ecologico e terminerà la terza palazzina dell'Ader da recuperare lì in Via Cona e della parte pubblica che ha un tot di finanziamenti rimasti che dovrà gestire lì nell'ambito della Cona. Tutto questo tradotto in termini di tempo, quanto ci vorrà? Ma non ci sono ancora i tempi e quando spesso in politica si danno i tempi si rischia di creare aspettative che poi vengono disattese. Era bloccato, non c'era verso di andare avanti perché bisognava trovare un accordo con la regione, con il partner privato e con gli interessi chiaramente del comune. Ora questo accordo è stato trovato, è stato sancito da una sottoscrizione unanime. il ministero che detiene la linea guida di questo progetto lo ha avvallato e quindi oggi ci sono le condizioni per sedersi ad un tavolo, per parlare e per decidere quelle che sono le esigenze del quartiere. Lo faremo con l'opposizione, con la maggioranza e soprattutto con i cittadini e con il comitato di quartiere. Una volta che avremo capito qual è l'indirizzo del progetto partiremo subito perché i fondi ci sono. Cambiamo argomento, dalle prossime elezioni almeno il 40% dei consiglieri regionali dovrà essere composto da donne. Lo prevede la legge sulle quote rosa nei consigli regionali definitivamente approvata dall'Aula della Camera con 334 sì, 91 no e 21 astenuti. Contro hanno votato Lega, Movimento 5 Stelle e Ala. Fratelli d'Italia e conservatori e riformisti si sono astenuti. Oggi le percentuali rosa sono molto più basse con il caso clamoroso della Basilicata che non ha nemmeno una donna consigliere in regione. Ad oggi in materia quindi la situazione in Italia è abbastanza frastagliata anche se complessivamente arretrata. Tutti i consiglieri regionali italiani sono 897 di cui solo 159 donne, il 17,7%. Se alcune regioni del centro nord hanno percentuali accettabili di donne che siedono nei vari consigli regionali in Emilia Romagna al 34,7%, in Toscana il 27,5%, in Piemonte il 26%. Quelle del sud hanno percentuali da Emirato Arabo, in Basilicata 0, non c'è nessun consigliere regionale donna, in Calabria il 3,3%, in Abruzzo il 3,4%, in Sardegna il 6,8%. Con l'esclusione al sud, l'Abruzzo è stato messo qui al sud in questa classifica, con l'esclusione della campagna che invece si attesta al 22% di presenza di donne in consiglio regionale. Due incidenti a poche centinaia di metri l'uno dall'altro e a poche ore di distanza sono quelli che si sono verificati alle porte di Teramo lungo il raccordo autostradale dell'A24 tra Teramo e Villavomano, macchine distrutte e per fortuna danni fisici contenuti per i rispettivi conducenti. Vediamo. Due incidenti nel giro di poche ore, sempre nello stesso tratto il raccordo autostradale dell'A24 tra il viadotto Sant'Antonio e la galleria di Collurania, tra Teramo e Villavomano. In entrambi i casi macchine distrutte ma fortunatamente conducenti miracolati che sono usciti illesi o quasi dagli abitacoli accartocciati. Il primo in ordine temporale è quello che si è verificato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, nel tunnel di Collurania in direzione Valvomano. La punto, condotta da un teramano di 20 anni, per cause che stanno chiarendo gli agenti della polizia autostradale della strada dei parchi, dapprima è finita sulla parete laterale della galleria e poi si è ribaltata più volte sulla carreggiata, praticamente distrutta. Il giovane alla guida è stato aiutato da alcuni automobilisti di passaggio a scendere e farsi medicare dapprima sul posto e poi al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Ha riportato un trauma cranico e, considerata la dinamica dell'incidente, può ritenersi davvero miracolato. L'altro incidente, questa mattina, verso le 8.30, una trentenne teramana ha perso il controllo della sua Volkswagen Lupo, finendo contro il guardrail laterale del viadotto Sant'Antonio in direzione Teramo, prima di ribaltarsi. Nell'incidente sono rimasti coinvolti poi, in un micro tamponamento, anche un mezzo furgonato di operai e un'altra macchina. Anche in questo caso, fortunatamente, le conseguenze fisiche per la giovane sono state lievi, con un leggero trauma cranico e qualche escoriazione. Soccorsa è stata trasportata al pronto soccorso del Mazzini, dove è stata assistita. Dalla prossima estate tornerà il Freccia Bianca a Giulianova. Parliamo di treni, ovviamente. L'ho assicurato Trenitalia agli amministratori giuliesi che ieri si sono recati a Roma, proprio per questo, il servizio. Gianluca Grimi, si ferma il Freccia Bianca quest'estate a Giulianova? Direi con una buona dose di certezza sì, anzi direi sicuramente sì. Siamo stati proprio ieri nella sede di Trenitalia con il sindaco e con Camilo D'Alessandro, Archimede Forcellese che si sta occupando da tempo di questa situazione e che ringrazio perché è la persona dal quale è nata tutta questa operazione. Diciamo che la cosa è ben avviata, decisamente ben avviata. Anche quest'anno potremo contare sulla Freccia Bianca a Giulianova. Soltanto che avremo il vantaggio non a metà estate ma dall'inizio stavolta, vero? Guardi, è importante sottolineare come quest'anno l'operazione sarà nel pieno della sua attività, ovvero potremo già iniziare a breve a fare tutta quella operazione di comunicazione ognuno per il suo settore di competenza, ovvero la regione per il suo settore di competenza farà comunicazione nei luoghi di provenienza dei turisti. Il comune si impegnerà a fare maggiori servizi di spostamento verso gli alberghi e a riqualificare la stazione in modo più positivo e soprattutto la DMC Adriatica farà anch'essa comunicazione attraverso un nuovo sito completamente dedicato. Questo significa che gli operatori potranno sfruttare appieno l'impatto turistico di questa operazione. Operazione che, devo dire, mi gratifica in modo particolare e gratifica in modo particolare il territorio terramano in quanto che Trenitalia ha mostrato una grande attenzione a questo che è il secondo comprensorio turistico dell'Adriatico e il primo del Medio Adriatico perché proprio attraverso l'operazione che è partita da Giulianova e che vede come stazione di riferimento Giulianova il nostro comprensorio ha e avrà una grande attenzione da parte di Trenitalia. Devo dire che questo mi ha particolarmente soddisfatto così come mi ha particolarmente soddisfatto la volontà di presenza di tutta la DMC che, parliamo bene, non si tratta solo di Giulianova ma parla di un comprensorio di comuni attraverso il quale fare operazioni turistiche. I consiglieri regionali di opposizione in centro-destra chiedono un consiglio regionale straordinario per affrontare il caso Ryanair per scongiurare l'abbandono dell'aeroporto di Pescara da parte della compagnia aerea irlandese. Bene, ha risposto Camillo D'Alessandro del PD, così verrà fuori la verità e quello che ha fatto chi ci ha preceduto. CNA, Confartigianato e Confesercenti inoltre lanciano l'allarme. Senza la Ryanair l'aeroporto diventerà un deserto. Si annuncia una vera catastrofe, perderemo 200 milioni di euro all'anno. Gli impegni della Regione Abruzzo per impedire l'annunciata soppressione della base Ryanair dell'aeroporto di Pescara dal prossimo mese di ottobre. Su questo argomento i gruppi regionali di Forza Italia, Abruzzo Futuro e Nuovo Centrodestra hanno inviato al Presidente del Consiglio regionale la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio. I vertici della compagnia irlandese Ryanair hanno annunciato che la base di Pescara sarà tagliata così come l'aeromobile si legge nella richiesta di seduta straordinaria dei consiglieri di centrodestra. Pesanti ridimensionamenti subiranno le rotte e i collegamenti attuali saranno progressivamente ridotti passando da 7 a 2. Anche il numero degli addetti allo scalo, prosegue la nota dei consiglieri centrodestra, subirà inevitabili tagli, molti dei quali saranno costretti a trasferirsi. La perdita del principale vettore low cost dalle rotte abruzzesi, addetta invece del Presidente regionale della CNA Italo Lupo, avrebbe un effetto desertificazione sullo scalo, senza contare gravissimi danni collaterali prodotti sull'occupazione e l'indotto, a cominciare dalle attività alberghiere, le agenzie di viaggio, gli operatori turistici. Per la Confartigianato è una vera catastrofe, una perdita di 200 milioni di euro all'anno. I negozi si svuoteranno, sarà un massacro per alberghi e ristoranti, minori entrate per 800 mila euro al giorno. Il rischio isolamento che abbiamo denunciato in questi anni sta diventando una drammatica realtà. L'Abruzzo non può permettersi di uscire dalle rotte aeree, sarebbe semplicemente la fine del turismo moderno. Lo affermano il direttore regionale di Confesercenti Enzo Gianmarino e i responsabili delle sigle Confesercenti del settore turismo, Daniele Zunica di Asso Turismo, Rivo Ciabattoni di Asso Hotel e Giuseppe Susi della FIBA. Siamo preoccupati, dicono, dell'enorme leggerezza con cui è stata gestita la partita. C'è inconsapevolezza su cosa voglia dire perdere i voli Ryanair per l'economia abruzzese. Benvenga il consiglio straordinario, lo trasformeremo in un consiglio verità nel quale sarà chiaro a tutti che chi ci ha preceduto e oggi fa finta di stupirsi di quanto stia accadendo conosceva benissimo l'epilogo di questa vicenda avendo puntualmente approvato leggi di finanziamento o ricapitalizzazione sempre bocciate dalla Corte Costituzionale a differenza dei nostri interventi legislativi non impugnati poiché legati a un piano industriale che ha salvato la possibilità di un sostegno pluriennale sempre nel rispetto della legge. Così Camillo D'Alessandro, consigliere regionale delegato ai trasporti, rispondendo alla richiesta di un consiglio regionale straordinario. Se invece avessimo ascoltato l'altro pezzo di opposizione, il Movimento 5 Stelle, conclude D'Alessandro, la saga sarebbe già chiusa, l'aeroporto non esisterebbe più e l'Abruzzo si troverebbe nel più totale isolamento. Sarà sottoscritto in provincia a Teramo il protocollo d'intesa per la realizzazione del collegamento ciclopedonale Marche-Abruzzo venerdì prossimo, 5 febbraio, alle 11 gli enti interessati, sulla base del lavoro svolto dal tavolo tecnico che ha individuato tipologie e costi, firmeranno il documento istituzionale che li impegna alla realizzazione dell'opera. Il collegamento costerà 2 milioni e 200 mila euro e, come si legge nel protocollo, la Regione Marche e la Regione Abruzzo si assumono l'impegno di realizzare il collegamento con tratti già esistenti della pista ciclabile marchigiana e quella abruzzese nella prospettiva di giungere alla costruzione di un unico percorso ciclabile. L'opera sarà realizzata dalla provincia di Teramo, che ha già redatto lo studio di fattibilità. Sabato alle 16.30 presso la sala dell'Associazione Teramo Nostra in Via Romani si terrà l'assemblea dibattito organizzata dal coordinamento democrazia costituzionale per spiegare il no al referendum costituzionale. Relatore del convegno Carlo Di Marco, il servizio. La riforma costituzionale voluta da Renzi affossa la Costituzione repubblicana e trasforma l'Italia da Stato democratico in una sorta di principato governato da una minoranza del corpo elettorale. Lo sostengono i promotori del Comitato per il no al referendum e anche a Teramo se ne parlerà sabato 6 febbraio nella sede dell'Associazione Teramo Nostra a partire dalle 16.30 in un'assemblea dibattito. A spiegare ai Teramani le motivazioni del no alla riforma costituzionale sarà il professor Carlo Di Marco. Per spiegare le ragioni del no al referendum costituzionale che si svolgerà in autunno per bloccare un progetto di deforma costituzionale che finisce per influire fortemente sulla stessa forma di Stato. Si sta assistendo ad una torsione autoritaria nel nostro Paese che passa attraverso questo progetto di legge costituzionale del Governo. Noi sabato sera spiegheremo le ragioni del no, esamineremo punto per punto la deforma costituzionale e spiegheremo ai cittadini, aprendo un dibattito insieme ad essi, che le riforme non sono un valore in sé, nel senso che le riforme devono innovare, devono andare avanti, devono adeguare la seconda parte della Costituzione ai principi fondamentali della prima, non devono deformare la Costituzione e deformare la stessa forma di Stato pluralista che ci è costato la resistenza partigiana e che ci è costato migliaia di morti. Ci sono circa otto mesi per impedire la deformazione del disegno costituzionale. A tutt'oggi è ancora solo parzialmente attuato, dicono i promotori del no. L'alternativa è netta. O rilancio della partecipazione democratica e salvaguardia della Costituzione repubblicana, oppure affermazione del Principato Renziano, che dietro alla governabilità fine a se stessa, dicono ancora i promotori del no, nasconde i soliti interessi oligarchici in conflitto con i diritti della stragrande maggioranza dei cittadini. Venerdì prossimo 5 febbraio alle 18, presso il Circolo Arci L'Officina a Teramo in via Vezzola 7, si terrà l'Assemblea pubblica promossa dal Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà Teramo Città per la sinistra di tutte e tutti, con il capogruppo alla Camera dei Deputati di Sinistra Italiana, Arturo Scotto. Dal 1990 non si registrava un inverno così poco piovoso in Abruzzo, da questa sera le condizioni meteo in regione dovrebbero peggiorare, con un miglioramento previsto già nella serata di domani. Un inverno secco in Abruzzo, a dicembre neanche una goccia d'acqua, a gennaio solo una nevicata, anche a novembre solo 100 mm, caduti tutti in un giorno. Così il meteorologo Giovanni De Palma, a proposito delle insolite condizioni meteo dell'ultimo periodo in Abruzzo, sottolineando che non è frequente una stagione così, e una cosa simile si è verificata l'ultima volta nell'inverno 89-90. In ogni caso, tra oggi e domani mattina, dovrebbe arrivare un po' di pioggia, ma la perturbazione sarà molto breve. L'attuale situazione, comunque, per l'Abruzzo non rappresenta un problema. Stiamo monitorando, dice il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale con delega all'ambiente Mario Mazzocca, ma non c'è nessuna emergenza. Vedremo nel giro di un mese cosa accadrà. Da marzo in poi potremo capire se ci sono problemi o meno. All'origine delle attuali condizioni meteorologiche, spiega De Palma, di abruzzometeo.org, c'è l'alta pressione, persistente e ben strutturata a tutte le quote, dovuta ad El Nino, che non fa altro che aumentare l'intensità delle correnti atlantiche, limitate a determinate zone, come le isole britanniche o la Scandinavia, mentre il clima è mite e secco sul Mediterraneo centrale. Ci sarà un peggioramento veloce tra questa sera e giovedì mattina, annuncia l'esperto. Temperature più basse, venti forti, neve a partire dai 600-800 metri, piogge e possibilità di temporali. La situazione però migliorerà già da giovedì sera. Forse domenica arriverà un'altra perturbazione, che porterà un clima autunnale, ma è tutto ancora da confermare. Una cosa è certa, da almeno un decennio in Abruzzo non cadeva così poca acqua. Questa mattina il generale di brigata Michele Sirimarco, comandante della legione Carabinieri Abruzzo, ha visitato il comando Compagnia di Alba Adriatica, dove è stato ricevuto dal comandante il maggiore Emanuele Mazzotta. Nella sede inoltre ha incontrato una rappresentanza di comandanti e carabinieri delle stazioni e degli altri reparti, nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. Successivamente il generale Sirimarco ha reso visita al sindaco di Alba Adriatica, a Togna Piccioni, al sindaco di Campli, Pietro Quaresimale. Grandi festeggiamenti a Roseto per il Carnevale. Martedì la giornata inizierà alle 14.30 con una sfilata di oltre 400 maschere sul lungomare. Poi i festeggiamenti si sposteranno al Palazzetto dello Sport. Vediamo. Roseto festeggia il Carnevale con la quarta edizione del Carnevale Rosetano, che si terrà martedì prossimo a partire dalle 14.30. Sì, noi siamo alla quarta edizione del nostro Carnevale Cittadino, che sarà composto da una grande sfilata, una sfilata di maschere, circa 600 maschere, per 30 gruppi che abbiamo già censiti. E arriveremo poi, facciamo tutto il lungomare, e arriveremo poi al Palazzetto. Dentro il Palazzetto quest'anno ci sarà, come al solito, il Carnevale dei Bimbi, però ci sono importanti novità. Ci saranno i trampolieri, ci saranno le bolle di sapone gigante, ci saranno... Un spettacolo vero e proprio, il Palazzetto. Un spettacolo vero e proprio, sì, organizzato. Ci sarà un'area per i più piccolini, diciamo, selezionata e a parte, proprio per non coinvolgerli nella massa, perché è molto, diciamo, molto rumoroso il nostro Carnevale. E quindi aspettiamo tutti i bambini, le famiglie, sotto la piazza del Comune, quindi piazza della Repubblica, Roseto, alle 14.30 di giorno 9, giorno di Carnevale. Oltre alle maschere, ci saranno anche dei carri allegorici? Sì, ci saranno dei carri anche, che accompagneranno, ci sarà la musica anche, che accompagnerà questi carri, quindi ci divertiremo, vi aspettiamo tutti. Possono partecipare tutti, a parte quelli che si sono già prenotati? Sì, esatto, sì. Noi aspettiamo tutti comunque lì, all'incontro, alle 14.30, e poi man mano si aggiungeranno anche lungo il percorso, come fanno ogni anno. Chi ha una maschera, ma anche senza maschera, potrà partecipare a questa sfilata, a questo corteo. Sulla scia del successo registrato dai laboratori didattici che si sono svolti durante il periodo natalizio e della richiesta da parte delle famiglie, il Polo Museale di Teramo ha deciso di organizzare gratuitamente un altro laboratorio che ha come tema la festività del momento, il Carnevale al Museo. Il laboratorio si terrà sabato prossimo, 6 febbraio, alle 16.30 al Museo archeologico di Teramo. Si realizzeranno maschere di animali fantastici, così da far divertire i bambini, continuando comunque a curare il rapporto con il museo. La partecipazione è gratuita ed è richiesta alla prenotazione. Inizieranno il prossimo 28 febbraio una serie di iniziative organizzate dal CAI di Arsita per promuovere il territorio della Valfino. È previsto anche un corso di speleologia e servizio. Promuovere il territorio della Valfino è questo l'obiettivo principale del calendario di eventi organizzato dal CAI. Sì, esatto. Quest'anno noi ci troviamo ad operare in un territorio diverso rispetto a quelli degli anni scorsi, cioè della città Valfino. Pertanto noi del CAI abbiamo realizzato un programma che oltre a promuovere i sentieri più belli del Parco Nazionale, Gran Sassi e Monti della Laga, permette di conoscere ai tanti visitatori anche la nostra splendida valle. Quindi mediante due iniziative che si svolgeranno all'interno del territorio della Valfino, quale ad esempio la non edizione di Passeggiando tra i Faggi del 18 di ottobre e la commemorazione al nostro amico Massimiliano Ciotti al Monte Coppe, la prima domenica di agosto e appunto entrambi nel territorio della città Valfino. Le iniziative copriranno tutto l'anno? Si inizia a febbraio? Certo, la prima iniziativa sarà il 28 di febbraio e ogni mese è possibile partecipare alle nostre iniziative di escursione. Dall'8 aprile al primo maggio ci saranno anche dei corsi di introduzione alla speleologia? Sì, di fatti Arsita si presenta bene in questo senso perché è un territorio estremamente carsico per cui perché non creare un corso? Ma non solo, il CAI di Arsita ha un gruppo grotte CAI Arsita e abbiamo messo su attraverso la Scuola Nazionale di Speleologia con i suoi istruttori della scuola stessa questo corso di speleologia. Il corso sarà posizionato in 5 lezioni teoriche e 4 lezioni pratiche. Le lezioni pratiche per metà si faranno sull'ambiente carsico prossimale a Arsita quindi pietra rotonda e via dicendo e due uscite nella zona di Frasassi. Open day al coro di Voci Bianche Città di Teramo sabato 6, 13, 20 e 27 febbraio dalle 16 e 30 alle 18 e 30 si terranno 4 lezioni aperte del coro diretto fin dalla fondazione dal maestro Umberto De Baptistis per presentare le proprie attività e per promuovere l'ampliamento dell'organico. Si ricorda che il coro ha l'attivo una ricca attività concertistica con unanimi consensi di pubblico e critica e importanti riconoscimenti anche a livello nazionale. L'open day del coro di Voci Bianche Città di Teramo si terrà presso il Centro Servizi per la Didattica Musicale del maestro Umberto De Baptistis in via dell'Arco 7, una traversa di Corso San Giorgio a Teramo. E adesso prima della pagina sportiva le previsioni del tempo per la giornata di domani con Meteoteramo.it Previsioni in Abruzzo Al mattino coperto con pioggia moderata specie sulle aree montane neve oltre 700 metri nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree appenniniche parzialmente nuvoloso sulle aree costiere nevicate al di sopra dei 700 metri tra sera e notte variabile con deboli rovesci di neve sui rilievi sereno sui settori adriatici quota neve sui 700 metri temperatura insensibile diminuzione massime comprese tra 4 e 7 gradi nelle conchie aquilane marsicane tra 13 e 16 gradi sulle pianure adriatiche venti moderati o forti settentrionali mari poco mossi in provincia di Teramo al mattino variabile con rovesci di pioggia moderati o intensi specie sui settori montani neve oltre 700 metri nel pomeriggio poco nuvoloso su diverse aree del territorio provinciale tra sera e notte sereno temperatura insensibile diminuzione massime comprese tra 7 e 10 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 9 e 12 gradi sulle coste venti moderati o forti nord-occidentali mari poco mossi o mossi cominciamo con il calcio di Lega Pro in casa Teramo Stefano Amadio è pronto per tornare in cabina di regia il mediano ha scontato la squalifica eppur non essendo in perfette condizioni fisiche a causa di una lieve contusione al polpaccio sarà presente nella difficile trasferta di sabato pomeriggio a Savona rispetto all'ultima gara di campionato il rientro di Amadio dovrebbe essere l'unica novità presentata da mister Vivarini nell'undici di partenza in avanti è possibile la conferma della coppia Petrella-Forte che ha fornito buone risposte nel corso della partitella infrasettimanale disputata questo pomeriggio contro la Berretti sul sintetico del Bonolis di Piano Daccio è stato comunicato intanto l'orario d'inizio della sfida di Coppa Italia tra Robur Siena e Teramo la partita in programma all'Artemio Franchi di Siena si giocherà in data unica giovedì 11 febbraio alle ore 15 i mesi di febbraio e marzo ci diranno se il Teramo andrà ai playoff adesso però pensiamo solo alla gara di Savona così il centrocampista del Teramo Alessandro Di Paolo Antonio in conferenza stampa sentiamo tra passato e presente il centrocampista del Teramo Alessandro Di Paolo Antonio ha parlato in conferenza stampa della prossima gara di campionato quella contro il Savona al Bacigalupo come ci arriviamo sicuramente carichi perché dopo passato l'anno siamo una scuola diversa ma anche con i due acquisti ci hanno dato una mentalità diversa e quindi sicuramente adesso siamo una scuola più compatta anche fuori casa e lo si è visto nella trasferta di Pisa quindi andiamo a Savona consapevoli di affrontare una squadra una delle più in forma in questo momento però consapevoli anche della nostra forza per quanto riguarda il gol dell'anno scorso penso voglio ricordarlo però ricordo che eravamo comunque ben ricordi di una vittoria storica però adesso il passato è passato purtroppo quindi dobbiamo pensare a questa trasferta di sabato che diventa importantissimo vabbè per me era un sogno sinceramente andare sia in B colteramo che comunque segnare il gol decisivo però nella mia testa sicuramente non me lo leva nessuno perché so la squadra che eravamo e so che quel campionato l'abbiamo stravinto e meritato sul campo quindi resta una bellissima gioia vera e comunque incancellabile E sui possibili obiettivi dei Biancorossi Di Paolo Antonio ha detto i mesi di febbraio e marzo ci faranno capire a cosa può ambire il teramo Secondo me questo mese di febbraio e il mese che verrà di marzo saranno mesi che ci faranno capire se questo teramo può ambire a qualcosa di più della salvezza cioè mi riferisco ai playoff altrimenti ci dirà che dobbiamo salvarci e finiremo questo campionato così e magari dall'anno prossimo si cunderà a qualcosa di più L'esterno dei Diavoli ha alzato il suo rendimento in campo da quando occupa la fascia sinistra questo perché, ha detto, si sente più sicuro in quella zona del rettangolo verde Da quando il mister comunque mi dà mi dà la possibilità di scendere in campo costantemente mi sono più calato nel ruolo diciamo che mi sento più sicuro quindi riesco a dare il meglio di me Anche nella prima parte sono stato adottato un po' da mezzala un po' da esterno un po' così quindi non sono andato molto bene però adesso negli ultimi mesi mi sento uno importante della squadra come sono tutti e spero che sto ripagando la fiducia del mister Io mi sento adesso sicuro perché comunque in quel ruolo diciamo che facevo anche prima mi sento più sicuro facendo quel ruolo però anche mentalmente sicuramente qualcosa è cambiato in me E adesso le decisioni del giudice sportivo di serie D Nel Girona F 700 euro di multa al Giulianova per le intemperanze dei propri tifosi che nel corso del secondo tempo hanno preso a calci e spaccato il plexiglass che proteggeva la panchina ospite Tra i giocatori una giornata a Filippo Pollino dell'Avezzano un turno anche ad Andrea Zanetti e Federico Delgrosso del Chieti e a Iuri Pantarotto Antonio Petrone David Lennart tutti della Miternina Questo pomeriggio nel campionato di eccellenza si è disputata la sesta di ritorno turno infrasettimanale a Maro per la vice capolista Paterno sconfitta a sorpresa a Montesilvano dall'Acqua e Saponi i marsicani restano a tre punti di distanza dalla Vastese che domani vincendo a Capistrello può allungare Nelle zone alte è terminato a reti inviolate il big match tra San Salvo e Pineto in basso invece raccolgono solo un punto Montorio e Torrese che in rimonta si fanno imporre il pareggio casalingo rispettivamente dal Miglianico e dal Francavilla ma andiamo a vedere i risultati del turno infrasettimanale nel campionato di eccellenza ventitresima giornata Acqua e Saponi Paterno 1 a 0 Capistrello Vastese si giocherà domani alle 15 Celano-Sambuceto 2 a 3 Cupello-Morrodoro 3 a 1 Martinsicuro-Alba Adriatica 4 a 0 Montorio 88 Miglianico 2 a 2 Pineto-Sansalvo 0 a 0 Torrese-Francavilla 1 a 1 Valdisangro Renato Curi Angolana è ancora in corso iniziata alle 18 vediamo adesso la classifica ovviamente ci sono due partite che ancora non sono conteggiate con i loro punti in classifica vedete le squadre con l'asterisco Lovastese è comunque al comando con 52 punti e domani può allungare e andare a più 6 in caso di vittoria ovviamente Paterno 49 San Salvo 41 Pineto 39 Martinsicuro 37 Morrodoro 35 insieme all'Arenato Curi Angolana poi Capistrello 32 Alba Adriatica 31 Miglianico 29 Cupello 28 San Buceto 26 Francavilla 23 punti Montorio 88 22 Torrese 21 Acqua e Sapone 20 Valdisangro 17 Chiude il Celano con 15 punti E adesso il basket domenica 14 febbraio la McKenner Giroseto sfiderà la Fortitudo Bologna al Palamaggetti Palla 2 alle ore 18 per una partita storica che manca dai registri della FIP da numerosi anni la cornice di pubblico prevista è alta anche per via del folto numero di tifosi ospiti attesi per di più una prova che il Palamaggetti potrebbe fare il tutto esaurito è data anche dai 3.000 spettatori presenti domenica scorsa in occasione del match contro Mantua inutile dirlo questo Roseto Sharks grazie agli ottimi risultati conquistati finora ha richiamato tanti appassionati alla Palamaggetti pertanto la società ha deciso di riattivare il servizio prevendita c'era stata qualche difficoltà nell'ultima partita casalinga con i tifosi che avevano perso tempo proprio nel fare i biglietti al botteghino al Palamaggetti e quindi grazie a questo servizio di prevendita i tifosi potranno acquistare anticipatamente il biglietto in modo da evitare code al botteghino come si sono verificate domenica scorsa la prevendita si farà all'Hotel Liberty di Roseto il servizio sarà già attivo a partire da domani fino a domenica 14 febbraio giorno poi della partita la pallamano è tempo di derby per la pallamano teramana nel campionato femminile di seriala con Meor Team Teramo e la Globo Almax e Bioapta Teramo si sfidano per un possibile posto nei playoff l'appuntamento è per sabato prossimo alle 18.30 al Palagiorgio Binki di Teramo subito dopo alle 20.45 ci sarà un match che vale molto in Serie B maschile infatti NHC Teramo e Lions Teramo si giocano il primo posto in classifica visto che entrambe le compagini sono al comando con 24 punti quindi è una sorta di sagra del derby della pallamano femminile e maschile a Teramo nel prossimo turno la campionessa di nuoto sincronizzato Federica Tommasi e il campione di nuoto sulle lunghe distanze Luca Ferretti sono state la piscina comunale di Teramo per promuovere la pratica del nuoto vediamo come una campionessa di nuoto sincronizzato nella piscina comunale di Teramo Federica Tommasi medaglia di bronza agli europei 2006 di Budapest nella prova squadra nel combinato e medaglia d'argento agli europei 2008 di Eindhoven nella prova squadra nel combinato è stata in città sabato e domenica per promuovere il suo sport tra i giovani teramani appassionati di nuoto una campionessa di nuoto sincronizzato a Teramo per promuovere la propria attività innanzitutto spieghiamo come nasce questa idea di venire proprio qui a Teramo diciamo che le mie origini in un certo senso sono abruzzesi e sono qui soprattutto per promuovere questo bellissimo sport che è il nuoto sincronizzato che in un certo senso può essere descritto come il connubio tra la ginnastica la danza e il nuoto si tratta di balletti nell'acqua quindi coinvolge ragazze e novità dagli ultimi anni anche ragazzi che possono andare circa dai 5 ai 6 anni fino all'età adolescenziale alla due giorni dedicata al nuoto è intervenuto anche Luca Ferretti campione europeo nella 5 km individuale gli europei 2010 di Budapest un parterre de roi che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico che peraltro è riuscito a toccare con mano le esperienze sportive e i sacrifici fatti dalla Tommasi e da Ferretti per arrivare ai massimi livelli c'è stata una bella risposta soprattutto da parte del pubblico di Aramano? assolutamente sì sono stati coinvolti atleti sono stati coinvolti i genitori e spero in qualche modo di aver pubblicizzato questo sport ancora non troppo conosciuto a livello regionale quanti sacrifici bisogna fare per arrivare ai massimi livelli come te? i sacrifici sono proporzionali al risultato conseguito diciamo che per iniziale sono sufficienti un'ora e mezza due ore a settimana o due volte a settimana potrebbe anche essere già sufficienti quando si arriva poi ad alti livelli gli allenamenti arrivano anche 8-9 ore al giorno bene è tutto vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata domattina alle 7 non perdete prima di tutto grazie arrivederci grazie a tutti